E di un comico, che diceva, Graucio Marzi, diceva non vorrei mai far parte di un club che accettasse tra i suoi soci uno come me. Perché ho messo questa frase? Perché questa frase vale per me, proprio per me Fabrizio. Che lavoro faccio io? Faccio il consulente. Bene, io non vorrei mai far parte di un network composto soltanto da consulenti. Perché? Perché mi è capitata questa esperienza, era stata drammatica. Sono andato una volta a uno di questi incontri, business, bellissimo, no? C'erano tante persone. Allora tutti si avvicinavano, ciao, di cosa ti occupi? E io di consulenza, ah ok, già, grazie. Poi arriva un altro, ciao, di cosa ti occupi? Di consulenza, ah ok, va bene, ciao, grazie. Ho detto, c'è qualcosa che non va, prima ho a fare uno spedetto. Arriva un terzo e mi fa, ciao, di cosa ti occupi? Ho detto, sono un imprenditore. Ehi, carissimo, ma che piacere incontrare, ma che settore, che settore ho cominciato a inventare. Appena si è diffusa la voce. Anche mia mamma. Anche mia mamma. È stata una scena raccapricciante, perché appena si è sparsa la voce che io ero l'unico imprenditore in mezzo a cento consulenti, ce l'avevo tutti addosso. No, l'ho conosciuto prima io, ma no, siamo amici. Terribili. Perché?